Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna si segnala la chiusura per lavori del tratto tra Aglio e Roncobilaggio fino al 28 febbraio. Sempre in A1 per lavori di ripristino d'anni. A seguito di un incidente stanotte in orario 22.6 sarà chiusa l'uscita di Firenze in Pruneta per chi proviene da Roma. In contemporanea per lo stesso motivo sarà chiusa anche l'uscita di Monte San Savino sempre provenendo da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze via di Santa Marta resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!